L'Abruzzo è la regione italiana più colpita dall'influenza stagionale. A dirlo è l'Istituto Superiore di Sanità, secondo cui nella nostra regione l'incidenza totale è pari a quasi 20 casi ogni 1000 abitanti, quasi il doppio dell'incidenza media nel resto del paese. Maggiormente vulnerabili sono i bambini al di sotto dei 5 anni di età, tra cui gli ammalati nella nostra regione superano i 50 ogni 1000 assistiti. In ogni caso, fa sapere l'Istituto Superiore di Sanità, l'incidenza è aumentata in quasi tutte le regioni italiane. Sono state 638.000 le persone che in Italia hanno preso l'influenza nella settimana tra il 20 e il 26 di gennaio. Il picco di questa stagione però non è ancora stato raggiunto e la curva epidemica continua a salire. Per prevenire il contagio, il Ministero della Salute consiglia di lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone o con altre soluzioni detergenti, di coprirsi bocca e naso con un fazzoletto quando si tossisce o starnutisce e di areare frequentemente le stanze dove si soggiorna. Inoltre, l'invito del Ministero è a rimanere a casa quando possibile, di non recarsi a scuola o al lavoro quando si è malati. Seppure il periodo ottimale sia ormai scaduto e sia già iniziata la stagione influenzale, si può sempre ricorrere alla vaccinazione. Vaccinarsi, sottolinea il Ministero, non induce né vaccinati alcuna malattia cronica né ne aggrava il decorso. L'immunizzazione annuale con il vaccino influenzale, si legge sul sito ufficiale, è un'importante pratica di sanità pubblica che deve essere continuata e incoraggiata. Si specifica inoltre che i vaccini sono controllati affinché siano omologati agli standard previsti dalle autorità nazionali e internazionali, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità in Primis.